Buonasera, continuiamo a dialogare di nichilismo. Abbiamo già visto in un incontro precedente che il nichilismo è un'atmosfera, un atteggiamento culturale, una dottrina che segna un punto di passaggio, una fruttura, una separazione da un certo tipo di storia del mondo occidentale segnata dall'ottimismo, da una visione positiva delle cose, dall'idea che ci fosse una direzione e un senso in quello che capitava, che fosse possibile giungere ad una verità e ci fosse in qualche modo anche una verità che ci guidava nella nostra vita e ad un nuovo tipo di atteggiamento, quello appunto nichilista, un filosofo, Jotard l'ha chiamato anche postmoderno, cioè l'età dopo la modernità, segnato invece dall'assenza di una verità unica, universale, dal fatto che l'uomo non poteva accedere a questo tipo di dimensione e da una serie di cambiamenti nel modo di vedere la vita, quello che era possibile conoscere e lo direi impossibile fare, certo con la caduta di una visione razionale, ottimistica, lineare, lineare della storia e della vita di tutto quello che ci caratterizzava, visione ottimistica, lineare e razionale che aveva caratterizzato gran parte della storia del mondo occidentale, certo nel mondo greco, anche nel cristianesimo, ma certo è facile citare Cartesio, Eged e tutta la nostra storia, e tutta la gran parte della nostra storia culturale. Il grande teorico o il sismografo di questa nuova situazione è stato Nietzsche, un filosofo che negli anni 70 e negli anni 80 dell'Ottocento ha anticipato, così sismografo, ha visto i grandi terremoti che avrebbero investito la storia del mondo occidentale nei futuri decenni. Nietzsche dà una definizione di nichilismo e dice che il nichilismo è quando manca il fine, il nichilismo è manca il fine, manca la risposta al perché, i valori supremi si svalorizzano. In questa frase c'è un po' tutto il senso di questo nuovo atteggiamento, di questa nuova situazione, di questa prospettiva che muova, che è emersa, soprattutto nelle prime due definizioni, quando si dice che manca il fine, manca la risposta al perché, perché queste due dimensioni sono quelle alla base di un certo tipo di storia razionale, logica, positiva del mondo occidentale. Insomma, la filosofia è nata per cercare il perché delle cose, per superare il mito, il perché delle cose, perché le cose capitano piuttosto che non capitano, qual è il motivo logico, razionale per cui sono capitate. Questo è il senso della filosofia, comprendere e spiegare razionalmente il divenire, uscire dal timore, dalla paura del divenire e quindi dagli avvenimenti che non si riuscivano a spiegare, poteva produrre e superare la paura attraverso la conoscenza, la ragione e la filosofia, appunto superare il mito che non era in grado di guidare l'uomo razionalmente nella vita terrena. Una volta che si era scoperto il perché delle cose, anche Platone, una volta che si era scoperto il perché delle cose, Platone erano le idee, quel modello universale che spiegava tutta la realtà, tutto il molteplice, si capiva anche qual era il fine. Per Platone era il bene, era la direzione finale, era l'idea più alta, era la verità più alta. Se manca la prospettiva del perché e del fine, manca il fondamento razionale, ottimistico, logico su cui si basa la storia della nostra cultura, o gran parte della storia della nostra cultura. Pensiamo per Aristotele la causa finale, la causa finale era la causa più importante di tutte, se mancava tra le quattro cause, causa materiale, causa formale, causa efficiente, ma era la causa finale. Quella poi ci spiegava che tutte le cose avevano un ordine rispetto alla dimensione divina da cui tutto era mosso, dell'amore di Dio, in senso anche così di elemento di attrazione, ma anche elemento di ordine, no? Di elemento di ordine nella famosa metafisica aristotelica. Insomma, il fine e il perché erano due dimensioni fondamentali. Grave naturalmente è anche la questione dei valori, non però tanto nel fatto che possano cambiare, perché possano cambiare, purché rimanga il concetto di valore. Ed sarà questo peraltro un'altra grande questione. Nell'età contemporanea rimane il concetto di valore o si modifica anche questo, cioè indipendentemente da quale valore noi adottiamo, ma il concetto di valore rimane altro grande tema delicato e molto complesso. Allora l'ichilismo indica un movimento, dice che domina da secoli e che in qualche modo può essere riassunto nella famosa frase Dio è morto, cioè la più grande delle nostre certezze, la più grande delle nostre verità è venuta a meno. Quella verità che era fondamentale anche per Cartesio, per far uscire il cogito da sé, insomma il cogito io penso sarebbe rimasto prigioniero dentro se stesso, il fatto che Dio c'era, che Dio era buono e quindi era garante di un ordine, di una razionalità della vita e delle cose che noi potevamo conoscere. Ecco perché poi potevamo attingere la verità e potevamo attingere anche la conoscenza del mondo esterno, no? Ci diceva Cartesio come res estensa, perché Dio c'era e Dio era garante della nostra attività conoscitiva interna ed esterna. Insomma, questo ruolo di Dio è un ruolo conoscitivo, poi pensando anche a Kant e anche etico, quello il quale poi sarà, pensando a Kant, la critica della ragione pratica, Dio è l'arbitro, un arbitro fondamentale poi per giudicare il comportamento buono dal comportamento negativo. Insomma, la più grande delle nostre verità, delle nostre certezze, sia dal punto di vista, sia dal punto di vista pratico, sia dal punto di vista teoretico. Il nichilismo allora è la situazione a cui è giunto l'uomo moderno che non crede più nei valori e naturalmente avverte lo sgomento del nulla. Abbiamo detto che la filosofia era nata per superare il nulla e per dare una spiegazione all'imprevedibile e al divenire. Al contrario invece è perché il nulla, naturalmente nulla provoca sgomento e l'età contemporanea ci mette di fronte a questo nulla. L'equivoco ci dice del nichilismo però, del nichilismo moderno è che si identifica la mancanza di fini, in qualche modo ci fa capire in Nietzsche, razionali con la mancanza di senso generale, sì perché poi la prospettiva di Nietzsche è quella di superare in qualche modo un certo tipo di nichilismo, un senso rimane anche se è un senso nuovo, che non è il fine razionale delle cose. I significati che non essendo come strutture date esistono come prodotti della volontà di potenza, ecco quello che sarà un cambiamento nella visione e nella prospettiva di Nietzsche, cioè il fatto di che siamo dominati, che siamo guidati, che siamo volontà di potenza, cioè volontà di vivere, di autoaffermazione, di realizzarsi, di un'energia che si autoproduce e che è dentro di noi e che è la base della vita. Questo sistema della volontà di potenza un po' ci ricorda la volontà di vivere di Schopenhauer, in qualche modo qua c'è un qualche rapporto naturalmente con Nietzsche, poi sappiamo la differenza tra Nietzsche e Schopenhauer, che Schopenhauer dirà di no alla vita, mentre invece Nietzsche dirà di sì alla vita, anche se tutti e due condividono così la natura nichilista della realtà che ci circonda, delle grandi contraddizioni che in qualche modo comunque segnano la vita, una certa visione della vita. Allora il nichilismo ha un carattere ambivalente, ci fa capire Nietzsche, ha un carattere ambivalente. Il negativo è il sintomo della decadenza in cui versa la nostra civiltà, la civiltà occidentale che si è cullata in una serie di valori falsi, in valori che ora si sono dimostrati non reggere al confronto dell'età contemporanea e quindi in una serie di ipocrisie che la nostra civiltà occidentale ha utilizzato per giustificare le sue determinate scelte e come disse Nietzsche in una scelte utilitaristiche, scelte di convenienza e come disse Nietzsche in un famoso libro scelte umane e troppo umane, scelte che dietro a un'apparente bontà o giustizia giustificavano interessi personali, motivi appunto umani e troppo umani, che non centravano niente con le scelte che apparentemente così venivano giustificate. Poi però ha anche una valenza positiva comunque il nichilismo perché è l'annuncio di una nuova aurora che sorgerà naturalmente dalle cenni della morte dell'uomo e di un certo dio inteso però come limite allo sviluppo della libertà umana, cioè dice la prospettiva poi a un certo superamento attivo del nichilismo di quello negativo naturalmente, è come anche essersi liberati da un fardel nichilismo, una liberazione, una critica verso quel fardello di grandi certezze o di grandi anche certi versi ipocrisie che vengono dal passato, vengono da Socrate, vengono da Platone, vengono anche dal cristianesimo, da un certo tipo di mondo che ha voluto impedire, che ha voluto soffocare o che ha soffocato i nostri veri impulsi o quello che noi veramente siamo. Sappiamo che Nietzsche nella tragedia dice che è fondamentale tornare all'uomo arcaico perché nel uomo arcaico si trovano i veri impulsi della nostra natura rappresentati da due divinità dell'epoca che sono così un po' il modello cui fa riferimento, la dimensione dionisiaca e quella appollinea e sappiamo che la dimensione arcaica è stata soffocata, annullata dal razionalismo di quella classica ma da particolare Socrate che ha voluto togliere i veri impulsi, i veri istinti della vita o ha voluto annullare i veri impulsi, i veri istinti della vita con la dimensione del puro pensiero, un puro pensiero che non è vita, non è vita materiale, anzi è vita falsa, è vita astrata perché la vita avviene su un altro piano che è quello anche del corpo, è quello dei nostri grandi impulsi. Come disse Nietzsche, lo stomaco è il principale organo di pensiero nell'Ostratustra e quindi il nichilismo positivo è l'annuncio di una nuova era, di una nuova visione della realtà, ecco di un nuovo tipo di senso delle cose che supera l'ipocrisia, la falsità del nichilismo negativo, della visione precedente che era falsa, ipocrita e che aveva nascosto quello che noi veramente siamo. L'età classica aveva, e poi il cristianesimo, e poi anche in qualche modo il socialismo avevano annullato quello che veramente siamo. Allora qua, in questa prospettiva, Nietzsche distingue due tipi di nichilismo, nichilismo incompleto e quello completo. Beh, quello incompleto è quello dei vecchi valori, quello in cui i vecchi valori vengono distrutti, nuovi ne sumentrano, vecchi valori vengono distrutti, ma hanno la medesima fisionomia falsa, ipocrita, razionalistica, moralistica dei vecchi valori. Si sostituisce un tipo di valori che hanno un certo tipo di caratteristiche con altri che magari apparentemente hanno contenuti diversi, ma hanno la stessa forma, cioè non recuperano quegli impulsi arcaici e non vedono la vita, quelli autentici, e non vedono la vita per quello che veramente è. La vita è appunto volontà di potenza, istinto, è anche negatività, è anche lotta tra le parti, è anche morale dei guerrieri, cioè forza, affermazione rispetto alla morale ipocrita, falsa dei sacerdoti. E quindi questo è un nichilismo incompleto, insomma, nichilismo ipocrita, falsa, nichilismo negativo, questo è un nichilismo poi da superare, naturalmente il nichilismo incompleto è il nichilismo da superare. Poi c'è un nichilismo completo, che è il nichilismo vero, è vero, e coloro i quali vedono la vita per quello che veramente è, segnata dalla lotta, dagli impulsi, dagli istinti, da quella dimensione dionisiaca, che nasce dalla tragedia, e poi Apollina è dionisiaca, che nasce dalla tragedia, dice, ci ha spiegato, è la vita, sono i veri impulsi che caratterizzano l'uomo. Solo che questo nichilismo completo può essere inteso in due modi, inteso in senso passivo, cioè se è debole, una debolezza se è passivo, cioè che il fatto che il nichilismo passivo che nasce, che si connette a una certa debolezza, si limita a prendere atto del declino dei valori. Accetta che comprende la vera natura della vita, quello che è veramente la vita, e vede la falsità dei valori precedenti, cristiano, socraticci, platonici, ma gran parte dell'opera di Nietzsche è un antidoto alla cultura socratico-platonica, pensavo allo Zaratustra, ma non solo naturalmente. Vede la falsità di un certo tipo di impianto, però non è capace di… dice di no alla vita, non è capace di affrontare il nichilismo in modo attivo, dice di no e si rifugia dentro se stesso. È l'atteggiamento di Schopenhauer, l'atteggiamento passivo è l'atteggiamento di Schopenhauer. C'è invece un nichilismo che… questo è un nichilismo che è un segno di debolezza, c'è invece un nichilismo che è un segno di forza, che è un segno di forza. È il nichilismo attivo, il quale si esercita però attraverso un'azione di distruzione, si esercita come forza di distruzione verso la falsità. È il nichilismo non solo di coloro i quali comprendono, prendono atto di com'è veramente la vita e della sua dimensione, della volontà di potenza che la caratterizza, capiscono veramente cos'è la vita, ma anche vanno oltre, dicono di sì in qualche modo alla vita per quello che è e sono contenti di viverla nelle sue caratteristiche, anche negative, anche contraddittorie, anche dolorose. E questa poi sarà la prospettiva dell'oltreuomo, quello che va super all'ultimo uomo e va, come dice nello Zaratustra, e si muove ora su un nuovo senso delle cose. Nietzsche chiama estrema la forma di nichilismo attivo, che distrugge ogni residuo a credenza. Il nichilismo attivo raggiunge la sua completezza quando è per il superamento del nichilismo, naturalmente quello passivo, naturalmente quello passivo e quello incompleto. Ed si esprime l'esercizio della volontà di potenza, che è quella energia alla base da cui dobbiamo partire, che si lega a quella natura arcaica che rappresenta il vero uomo, l'uomo appunto dell'età preclassica. Progettare di vivere senza certezze metafisiche non è distruggere ogni senso, cioè abbandonare quella prospettiva di verità, falsa, razionale, di carta, astratta della metafisica del mondo occidentale, ma responsabilizzare noi, un uomo, a darsi da sé dei significati e delle scelte. Metterci sul piano, cioè della scelta. Spiega bene questa nuova era nello Zaratustra ed altri testi, ma anche nello Zaratustra dice dove ci fa degli esempi di questo superamento, di questo nuovo uomo che poi è l'oltreuomo e che supera appunto il nichilismo in senso negativo e assume la vita nella prospettiva della scelta, accettando la vita per quello che è appunto in un nichilismo attivo. Il profeta di questa nuova era sarà non più l'uomo, l'ultimo uomo, ma l'oltreuomo, capace di assumere su di sé il senso profondo del nichilismo e superarlo, rendendosi autore e creatore dei nuovi valori. E qua, e qua, in Così parlo Zaratustra, raffigura quella, in modo di vedere, quelle metafore, quelle bellissime figure che un po' spiegano, con delle metafore di animali, questo tipo di passaggio. Così parlo Zaratustra, raffigura la civiltà decadente, il nichilismo e l'oltreuomo con alcune metafore, come il cammello, portatore del peso dei valori e degli idoli che si è creato e che lo appesantiscono nel suo movimento libero e creativo. Quindi siamo tutti cammelli e qui il cammello è un po' il punto di partenza, è il nichilismo incompleto, quello il quale deve subire un peso di ipocrisie, di falsità, di falsi valori, da cui bisogna liberarsi, è l'atteggiamento, è nella situazione nichilista, ma è l'ultimo uomo, ho una visione negativa del nichilismo. Il leone è il nichilismo, ma anche il filosofo distruttore, poiché è anche immerso, anche se in maniera attiva, nel processo di decadenza, però è colui il quale passa dal cammello, dall'io devo, subisce la situazione, l'ultimo uomo che subisce, o appunto è quella dimensione negativa in cui siamo, l'ultimo uomo ha il leone che è un nichilismo, come c'è un nichilismo critico, un nichilismo di liberazione, dove si passa dall'io devo del cammello all'io voglio del leone. Però la vera prospettiva finale non è il leone, ma è infine l'oltreuomo, che liberandosi dalla catena e della storia, quale storia del nichilismo è alleggeritosi dai fardelli del passato, che imprigionavano il gioco creativo delle sue facoltà e dei suoi istinti primordiali, come un fanciullo gioca finalmente libero e creatore di nuove possibilità esistenziali, sicché la terra diventa luogo di guarigione. Ecco il fanciullo che è quello il quale passa dal liodevo del cammello, al leone che io voglio, passaggio fondamentale di liberazione, naturalmente finalmente al fanciullo che può vivere la vita in quella dimensione anche di leggerezza, di libero manifestarsi, di libero gioco, di creatività, che il mondo razionale occidentale, socratico, platonico, cristiano, ha distrutto, ha ucciso. Insomma l'età classica ha distrutto l'età arcaica, impedendoci di essere liberi e di essere veramente spontanei. Faccio notare però questa triade un po' così che fa pensare il momento del leone a quel sapore un po' dell'antitesi ghigliana, che è la condizione per giungere al fanciullo, che è in qualche modo una sintesi diversa. Ecco, così c'è una dialettica tra queste parti, anche se è completamente diversa, naturalmente qui non siamo nel mondo ghigliano, però il punto di arrivo non è il leone, che è la forza, ma al contrario è il fanciullo, è la liberazione, qui poi come non pensare a Dostoievski, all'idiota, o a un certo tipo di letteratura. Ecco, a tale condizione seguirebbe appunto un superamento della condizione di malattia. Se si realizza questo si supera la malattia che ha caratterizzato l'uomo occidentale, prodotta da Socrate, Platone, da un certo tipo di storia, attraverso una vera rivalutazione dell'esistenza basata sulla volontà di potenza, cioè sulla scelta e sulla responsabilità del singolo, sappiamo che si connette anche all'eterno ritorno, cioè all'idea di accettare che non c'è un fine, non c'è una direzione, che il valore della storia e della vita è nell'attimo stesso, in quello che capita momento per momento, cioè in quella visione circolare della storia che è la cartina tornasole per la vita dell'oltreuomo che supera, in questa prospettiva in questo modo, che supera l'ultimo uomo. Vi fermo qua, vi aspetto al prossimo incontro dedicato ad Heidegger e alla sua visione del nichilismo. Grazie per avermi seguito, a presto.